Benvenuti ragazzi che è quello che vi ritrovate nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati con un gameplay di gt5 online in sottofondo Per dirvi un po' di cose riguardo a quello che sta succedendo Perché non arrivano i video sul canale eccetera eccetera Quindi diciamo che vi dirò anche un po' di novità Allora ragazzi il motivo perché non stanno arrivando video Chi mi segue sulla pagina di facebook credo che già lo sa Lo sa abbastanza perché chi mi segue sulla pagina di facebook ragazzi Io là scrivo tutto quello che accade Quindi se per esempio non arriva il video lo scrivo là il motivo perché non è arrivato Quindi chi non mi segue ancora sulla pagina di facebook E mi inizi a seguire sulla pagina di facebook Trovate il link qua sotto nella descrizione come in ogni video E appunto il motivo qual è perché non arrivano questi video Semplicemente ragazzi io stavo registrando il video di minecraft Il venerdì, il venerdì scorso si Stavo registrando il video di minecraft Ma all'improvviso è andata via la corrente Così a caso Poi ho riavviato ovviamente il condatore Stavo per iniziare di nuovo a registrare Va via di nuovo la corrente e così via ragazzi L'ha fatto per tipo tre volte Dopo tre volte non c'è stato più nulla di fare Il condatore non si voleva riavviare più Il motivo qual è ragazzi? Il motivo di questa specie di cortocircuito Sarebbe un portalambade ragazzi Quindi c'è un lambadaio difertoso È molto difettoso diciamo Perché fa tutto questo Cose incredibili che blocca tutto E questo qui voi mi direte Sì vabbè che c'entra Non c'è la luce del sole Non ci sono tutte queste cose Sì ma la luce del sole se ne va alle 4 alle 5 e mezza Una volta che la luce del sole se ne va alle 5 e mezza Io mi metto a registrare un video I video vi sembrano durare poco Ma in realtà dietro il video tipo Ci potrebbero essere un'ora o due ore di registrazione Quindi visto che io mangio alle 3 e mezza Se vado ad iniziare diciamo il video alle 4 C'è manca poco ed è buio Quindi è veramente assurdo riuscire a fare un video Ieri sera volevo fare un video A posto di questo video doveva uscire l'ultimo episodio Della velocità esplosiva Perché abbiamo preso tutte Abbiamo fatto tutte le velocità esplosive Stavo registrando con una torcia puntata nella faccia Ma non è questo che è stato Perché ovviamente la mia connessione Non so perché mi si è staccata Non andava più la connessione Quindi proprio c'ho un mare Un mare incredibile che mi rema contro Ma proprio non riesco ad uscirne uno tsunami E va bene ragazzi Ma tutto questo sembra essere quasi risolto Perché ovviamente adesso i video Mi sto programmando meglio Quindi da domani avrete i classici video su GTA Eccetera eccetera Oggi vi ho fatto uscire questo video diciamo Per non lasciarvi così all'oscuro di tutto ragazzi Anche quelli che ovviamente non mi seguono sulla pagina di Facebook Devono sapere quello che sta succedendo Ma da domani appunto sembra essere tutto risolto Quindi da domani in voi avrete i classici video appunto su GTA Come vi avevo detto prima Quindi nulla ragazzi Questo era il motivo perché appunto non stanno arrivando i video Per fortuna che i contatori sono separati Perché se sarebbero tutti unici diciamo Per tutte cose prese, corrente eccetera eccetera Sarebbe praticamente un casino Non potrei utilizzare neanche il pc Non potrei montare i video Non potrei fare nulla Quindi per fortuna i contatori sono separati Se no voi non avreste visto neanche questo video Quindi state tranquilli Da domani tutto ritornerà alla normalità La seconda cosa che vi voglio dire oggi È una cosa che appunto metto nei video In alza a sinistra Vedete da circa 50 giorni Apparire una scritta Blue Yeti Meno eccetera eccetera ragazzi Perché questo? Alcuni di voi ancora non l'hanno capito E quindi me lo chiedono Allora ragazzi Questo qui sarebbe il call down Del nuovo microfono che mi dovrei comprare Ovvero il Blue Yeti E appunto come vedete Ormai manca veramente poco Quindi faremo un salto di qualità Della mia voce Del microfono veramente alto ragazzi Cioè spiccheremo alle stelle Poi un'altra cosa che vi voglio dire Riguarda a Minecraft ragazzi Perché ovviamente ha già due settimane Che non arriva Minecraft Questo mi dispiace veramente tantissimo Perché so che a voi Minecraft Mi piace veramente tanto E per me non portarlo è veramente un sacrificio Perché la scorsa settimana C'è stato un problema Che appunto non sono riuscito A registrare Minecraft Questa settimana mi è andata via la corrente ragazzi È veramente assurdo Sembra che Minecraft non si voglia fare registrare E comunque l'ultimo video riguardando appunto Minecraft Vi arriverà su PS4 ragazzi Quindi questa settimana non vi arriverà su PC Ma vi arriverà su PS4 Questo perché? Perché registrare appunto con il microfono dal PC Mi viene veramente male Perché è scomodo Quindi adesso sto per aspettare diciamo il Blue Yeti Che così mi riesco a impostare meglio con il microfono Quindi queste sono tutte le novità che vi dovevo dire oggi Vabbè diciamo che la più importante era quella riguardante ai video Perché non stanno arrivando i video Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook La trovate in descrizione Iscrivetevi al canale per nuovi video Qua da Willy J è tutto Bella raga Il secondo loop Non ci credo Dov'è il check? Prendilo No Troppo a poca velocità Non ci credo Non ci credo Ce l'avevamo fatta Vai che ci risiamo Vai che ci risiamo Let's buy